AWC, Pilot Chronograph, il cronografo aviatorio di eccellenza. Se siete appassionati di orologi e di aviazione, non potete non conoscere il modello AWC Pilot Chronograph, il cronografo da polso che ha fatto la storia degli orologi da aviatore. Si tratta di un orologio che unisce la precisione e la robustezza tipiche dei Pilot's Watches di AWC con la funzionalità e lo stile di un cronografo sportivo. L'AWC Pilot Chronograph nasce nel 1994, come parte della collezione Pilot's Watches di AWC, che affonda le sue radici negli anni 30, quando la manifattura svizzera iniziò a produrre orologi da polso per i piloti, ispirandosi agli strumenti di bordo degli aerei. L'AWC Pilot Chronograph si inserisce nella tradizione degli orologi da avviatore di AWC, ma aggiunge la funzione cronografica, che permette di misurare gli intervalli di tempo fino a 12 ore. Il cronografo è azionato da due pulsanti posti a ore 2 e 4, che garantiscono una maggiore impermeabilità. Il quadrante è caratterizzato da una grande leggibilità, con indici e lancette luminescenti, ed ha una disposizione tri-compax dei contatori cronografici, con i piccoli secondi a ore 9, il contatore dei minuti, 30, a ore 12 e il contatore delle ore, 12, a ore 6. A ore 3 si trova anche la finestra del datario e del giorno della settimana. Il quadrante è protetto da un vetro zaffiro bombato e antiriflesso su entrambi i lati. L'AWC Pilot Chronograph è stato prodotto in diverse varianti, con quadranti di diversi colori, come il nero, il blu, il verde e l'ardesia, e con cinturini in pelle o in tessuto. Tra le edizioni speciali, spiccano il Pilot's Watch Chronograph Edition Le Petit Prince, dedicato al celebre romanzo di Antoine de Saint-Exupéry, con il quadrante blu e il fondello che raffigura il piccolo principe su un asteroide, e il Pilot's Watch Chronograph Edition Antoine de Saint-Exupéry, con il quadrante marrone e il fondello che mostra un aereo Lockheed P-38 Lightning, lo stesso con cui lo scrittore e aviatore francese scomparve nel 1944. L'AWC Pilot Chronograph è quindi un orologio che racchiude in sé la passione per l'orologeria e per l'aviazione, con una storia ricca di fascino e innovazione. Si tratta di un cronografo da polso che offre prestazioni elevate, una grande leggibilità e uno stile inconfondibile. Nel tempo si è evoluto costantemente sotto tutti i punti di vista, migliorando modello dopo modello, rendendolo un compagno ideale per i piloti e per gli amanti degli orologi sportivi.